Che lavoro fai? Esercito la professione di avvocato e da circa tre anni ricopro la carica di sindaco. Dove? In Castelfranco e Miscano. Quanto è grande il tuo comune? Circa 43 km2. Quante persone ci abitano? Circa mille. Il tuo comune è in una zona rurale? Certo. Che cos'è una zona rurale? La zona rurale è una zona a vocazione prettamente o esclusivamente agricola. Quali sono i prodotti più tipici che si producono nel territorio? Grano duro, grano tenero, mais e Castelfranco è anche molto conosciuta per la produzione di caciocavallo. Mi dici qual è un piatto tipico della zona? I cicatielli. Quanto è importante l'agricoltura per il tuo territorio? È al primo posto. Cos'è per te l'agricoltura multifunzionale? Nel nostro caso è la cultura abbinata all'agricoltura.